Non si trattò di caduta accidentale ma di omicidio. La sera del 19 maggio 2019, incontrata a posto di femmina morta a Barcellona, il romeno 25enne Tiberius Stelian Petro Aei ha ucciso il fratello Ciprian Catalin. Questo l'esito delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Barcellona. Il provvedimento cautelare del GIP del Tribunale di Barcellona è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Barcellona, coordinata dal procuratore capo Emanuele Crescenti. La notte della morte del fratello aveva contattato il 112 riferendo di aver rinvenuto il cadavere e asserendone la circostanza che era verosibilmente precipitato dal balcone da un'altezza di circa 5 metri. Giunti sul posto i carabinieri effettuarono i primi accertamenti con il medico legale. L'arrestato, ascoltato nell'immediatezza dei fatti, dichiarò che verso la mezzanotte si era recato presso un bar della zona per riaccompagnare a casa il fratello che poco prima aveva avuto un diverbio con altri clienti del locale. Rientrati alla propria abitazione, Ciprian Catalin aveva chiesto al fratello di poter tornare al bar dove aveva trascorso la serata per recuperarle il cellulare che aveva accidentalmente dimenticato. Lui ha consentito alla richiesta ma al suo rientro rinvenne il corpo esanime del fratello riverso nel giardino dell'abitazione. Da qui sono iniziate le indagini e anche le contraddizioni. Dalla consulenza medica la morte risultava determinata da un oggetto di gente peso, smentendo dunque quanto dichiarato dal fratello e l'ipotesi della caduta accidentale. Sul corpo della vittima non sono state riscontrate lesioni e fratture dagli arti superiori compatibili con una caduta ma numerose scoriazioni derivanti verosibilmente dal trascinamento del corpo sul luogo del rinvenimento. Da qui il GIP del Tribunale di Barcellona condividendo la ricostruzione operata dall'ufficio di procura a seguito degli elementi acquisiti nel corso delle indagini dei carabinieri ha emesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per omicidio aggravato. L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona.